L'uomo della mediana che sospinge meglio il quintetto e Neri Che si fa ammirare per alcune scelte di tempo perfette Neri risolve una mischia sotto la nostra porta Impossa un'azione che sviluppa meazza Meazza lancia Ferrari e scatta sulla fascia sinistra Salta con eleganza il terzino avversario serve Piola Piola al bordo dell'area di rigore e palla su sinistra Piola rete Non possiamo rimanere qui Nico E' pericoloso per la radiotrasmittente Dobbiamo spostarla, oggi ci penso io con la bici Non aspettare la palla da fermo Devo informare Cencio e dobbiamo trovare Silvio Corbari Ma perché continua a fare di testa sua? Trovarsi dove è possibile ricevere la palla Smarcarsi per creare spazi ai compagni Sarà già arrivato ai valloni di Gamogna L'hanno visto coi suoi sotto il poggiolo del forcone Non dar tempo agli avversari di ragionare E' meglio se ci spostiamo sotto il torretto Il lancio è previsto per domani I tedeschi non se lo aspettano Velocizzare il gioco, sorprendere gli avversari Bisogna partire subito Magari andiamo solo io e te Gli altri ci possono seguire dopo Magari andiamo solo io e te Magari andiamo solo io e te